Anche una corsa può fare la differenza Kit, vi seguo sui moni Kit, andateci piano, avete ospiti a bordo Kit, pronte notizie, Garth si dirige verso di voi su un elicottero Mettetevi in salto Attivare modalità iberi Kit, sei già entrato nella jet house Grazie a tutti Grazie a tutti Garde è stato abbattuto Kit, tutto bene? Jake, modalità autocruise danneggiata Torniamo a casa, ho urgente bisogno di una piccola sosta Kit, ben fatto, i nostri amici siamo al sicuro che devo non potessi farcela Maicon quest'anno non demorizzio, niente ne vedi, si ruperemo Kit, sei già entrato nella jet house Kit, sei già entrato nella jet house Kit, guardateci piano, avete ospiti a bordo Kit, pronte notizie Kit, Garth si dirige verso di voi su un elicottero Mettetevi in salto Kit, sei già entrato la tua il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info